La mia città non esiste, ma si può attraversare o abitare ogni volta si attraversa un confine. E' lì, sta lì, finché tu non la trovi o non incontri i suoi strani abitanti. Sono un insieme di esuli, migranti, esodati, viandanti senza tempo, signori fuori posto, che si portano addosso casa e memoria. Non certo il logo di partenza, del quale hanno soltanto brutti ricordi. Io sono incazzato bianco. Maggiore ormai è il vuoto tra cuore e cuore che fra la terra e le stelle. Eppure i poeti, i saggi, i grandi maestri, i pittori, ma anche i profeti, ci avevano lasciato in eredità un messaggio di pace, di amore, di umanità, per prevenire la paura del diverso da sé. Perché, ahimè, vi è poco amore in questo mondo, anzi, vi sono sofferenze indicibili. Milioni di bambini muoiono di fame, non hanno nessuna possibilità di crescere, studiare, vivere una vita vera. E le cose non sembrano molto migliorate fin dai tempi di Abele e Caino, soprattutto nel sud del mondo. Perché? Pensate, in Africa un tempo avevamo sposato la natura, dalla quale traevamo tutti i mezzi di sussistenza. E i giovani crescevano all'ombra dell'albero Baobab, seduti in cerchio, ad ascoltare il nonno raccontare loro delle storie. E ogni storia che finiva si concludeva con una morale. E la raccolta di tutte le morali diventava il codice di comportamento che essi dovevano sapere a memoria. Ed è proprio grazie a quel lavoro che facevano gli anziani. Non si sentiva più di tanto la mancanza di una scuola moderna. Si frequentava la scuola della saggezza. E anche per questo ancora oggi si usa dire che un anziano che muore sia una biblioteca che brucia. Da noi in tempo un'Africa. Ogni vittoria era comune e ogni sconfitta era generale. Nessuno osava farsi la doccia mentre il vicino di casa moriva di sete. Il capitale in possesso non si misurava mai in beni materiali, ma sempre su ciò che riporta alla persona, alla sua importanza, al suo ruolo. Quindi per noi avere non era possedere, ma essere consapevoli di far parte di un gruppo di uomini sul quale poter contare. Quindi l'individuo aveva l'obbligo di tenere conto degli altri e considerava se stesso come una perla, la cui importanza aveva senso solo considerando l'intera collana. Ed era vietato pensare io, ma molto usuale pensare noi. Il passaggio dall'adolescenza all'età adulta non era automatico. Tutta una generazione veniva affidata a un personaggio in maschera che in Senegal si chiama Cancoran, li porta nel Bosco Sacro per circa sei mesi. Imparano a riconoscere le piante, imparano le fondamenta della società, diventano maestri della parola grazie alla facoltà di scegliere i termini giusti per esplicitare un concetto preciso. Una volta usciti dal bosco, saranno riaccolti come uomini adulti e maturi, con il diritto alla parola durante le sedute collettive. I Dogon, un antico popolo del Mali, considera la vita in tre ambiti distinti. Da un lato ci siamo noi, qui presenti. Dall'altra parte c'è l'universo, dove vanno tutti i morti, e poi il pluriverso, dove vanno solo i defunti. L'obiettivo della vita era di raggiungere il pluriverso, che permette di essere ricordati dai vivi attraverso i rituali guidati dalle maschere. Il tempo delle scoperte, l'islamizzazione, l'evangelizzazione, la colonizzazione, la schiavitù, provocarono una cancellazione repentina di quei valori morali tradizionali. Gli africanisti passarono di fianco alle maschere e alle statue, senza rendersi conto dei loro significati. Fosse. I giovani di oggi non si sentono a casa in quel continente e l'Africa non li riconosce più come figli propri. La terra promessa è altrove, oltre il deserto, oltre il mare. Andare. Partire per forse mai arrivare, o forse rientrare diversamente. La memoria incendia il confine degli esuli, come sale sulla carne senza pelle. Chiunque non conosciamo è semplicemente un libro che aspetta di essere letto, ma da queste parti si è scelto di giudicare il libro degli esuli soltanto dalla copertina, senza nemmeno darci il tempo di leggerne almeno due pagine. Io ho avuto modo di incontrarne tanti, con tante esperienze da condividere. Biran è uno di questi. La benzina era finita, non c'era più niente da mangiare né da bere. Avevamo sbagliato rotta, tutto intorno a noi, solo l'asuro del cielo e del mare, niente altro. Avevamo sete. Erano passati ormai tre giorni da quando avevamo finito le scorte d'acqua. Ci siamo esfoliati tutti, uomini, donne, bambini. Nudi e crudi, come Dio ci aveva fatti. Abbiamo aspettato mezzogiorno e mezzo. Quando il sole ha picco, abbiamo cominciato a lecarci a vicenda, perché così almeno mandò nel mio stomaco il sudore del compagno. Ma dopo quei tre giorni eravamo talmente disidratati che dalla nostra pelle non usciva più il sudore. Usciva una specie di olio e tutti hanno cominciato a guardare il mare. E io gli ho detto ragazzi, ragazzi, il mare no! Piuttosto beviamo la nostra pipì! E tutti mi sono saltato addosso. Sei scemo! Come fai a dirlo? La pipì non si può bere, è piena di microbi, di schifezze! Invece il mare sì, perché è bello, è cristallino, è trasparente, non vedi! Poi hanno cominciato a bere l'acqua del mare, ma più bevevano e più vomitavano. Era come se l'acqua fuoriscisse da ogni angolo del loro corpo. Hanno cominciato a morire tre al giorno. In fondo alla barca stava una signora con la sua bambina. Mariamma si chiamava. Avrà avuto due anni e mezzo, al massimo tre. E la bambina piangeva. Piangeva di giorno, di notte, mattino, pomeriggio e sera. Come un disco rotto, io ad un certo punto mi sono sentito orfano di quel suo disco. Signora, la bambina! Ha risposto, ma non capivo quel che dicevo. Ma guardate bene, ho visto che giocava con i suoi capelli e ogni tanto sussurrava qualcosa alle sue orecchie. Sono andato a guardare e lì, ho visto. La bambina era gonfia come un pallone. Era morta ormai da più e più giorni e solo che la signora fosse acceccata dall'istinto materno. Non voleva rendersi conto dell'evidenza. Se la coccolava, sussurrava col... Signora! La bambina è morta! Dobbiamo buttarla come tutti gli altri! E lei mi è sembrata nevrastemica. Ho strappato la bambina, l'ho buttata in acqua. Lei ha reagito, si è avvicinata sul bordo della barca. Ma... Io ancora oggi sento la sua voce così flebile che amare. Mariamma! 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 Si volta verso di me e mi dice... Le stavo facendo le trecine. Io volevo che rimanesse bella anche dopo la morte. Le stavo facendo le trecine prima di consegnartela. Ma io non potevo saperlo a quel punto lei si lasciò andare e tutti noi pensammo fosse meglio così. Il pescatore che incrociamo mi lanciò un sacchetto con dei biscotti, una bottiglietta d'acqua e continuò a ripetere come uno scaldabagno rotto. Mi dispiace! Un povero pescatore sono! Tengo famiglia! Se vi tiro su mi sequestrano la barca! Chi penserà poi ai miei figli? Vorrei tanto! Ma mi dispiace! E non posso! Riavvia il motore e se ne va. Signore e signori, ho maturato la convinzione che oggi urge condividere la ricerca di una umanità che non si nasconde dietro il velo dei localismi, ma diventa evidente ogni volta che noi faremo agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi e quando avremo cura di non fare ad essi ciò che non vorremmo fosse fatto a noi. Dare cittadinanza al patrimonio culturale altrui custodito nei nostri musei, renderli accessibili alla cittadinanza coinvolgendo anche i migranti residenti nei nostri territori. Forse ci potrebbe aiutare perlomeno a discernere e poi scegliere tra un immaginario collettivo e una realtà vera. A tutti noi oggi tocca cogliere il messaggio che tutte le culture presenti nel nostro territorio contengono in tutti i casi in cui sono coerentemente volti verso il bene comune e non invece come strumenti di esclusione. Ma questo non significa rinunciare alla propria cultura ma abbracciarli tutte cogliendo da ciascuna di esse ciò che è ritenuto positivo per migliorare se stessi e la piccola porzione di mondo che ci circonda. In effetti io io non so se questa mia convinzione potrà diventare realtà. Vita vera! Ma se ci dovessimo riuscire allora smetteremo di piangere per i nostri morti per incominciare a praticare ciò che ci hanno lasciato ciò che ci hanno insegnato ciò che ci hanno invitato a sperare da vivi. E nella società tradizionale negro-africana quando ci si incontrava la mattina ci si augurava buona morte. E io qui presente unito a voi assieme a ciò che ci riunisce non posso fare a meno di ricordare a ciascuno di voi che è possibile morire senza mai cessare di esistere. Arrivederci nel pluriverso. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.